Un ben ritrovato a tutti voi con la nostra informazione paura la notte scorsa ad asti per lo scoppio di una bomba carta posizionata davanti al cancello del tempio dei testimoni di Geova nel quartiere di San Fedele. La deflagrazione è stata sentita in tutta la zona sud-est della città con grande spavento per gli abitanti. La polizia scientifica sta ancora svolgendo i rilievi mentre sul posto stanno operando anche gli uomini della Digos. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi e le indagini tese a risalire agli autori vanno sia nella direzione della Bravata che su un gesto dimostrativo di avvertimento. Lo scoppio della bomba carta per fortuna non ha provocato nessun ferito. E continuiamo con la cronaca scontro frontale questa mattina attorno alle 6 in via Merula ad Andorra in provincia di Savona dove un uomo di origini senegalesi ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione nell'impatto con un furgone l'auto sulla quale era a bordo la vittima si è ribaltata accartocciandosi. Immediato l'intervento dei soccorritori ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Ferito in modo grave anche il conducente del furgone che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Ed è grave anche il 38enne che la scorsa notte con il suo camion è andato a sbattere contro il viadotto numero 13 della tangenziale sud di Torino nei pressi di Moncalieri. L'uomo è stato trasportato al CTO dove i medici si sono riservati la prognosi. Pare che per l'eccesso di velocità il rimorchio sul quale l'autista era a bordo sia rimasto incastrato sotto al ponte danneggiando anche il viadotto sottoposto poi alle verifiche di stabilità da parte dei tecnici della società attiva arrivati sul posto insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia stradale della sottosezione di corso Giambone che hanno chiuso il tratto di strada per due ore. guidava la sua apecar, coltivava l'orto, leggeva i necrologi, faceva acquisti nei negozi ma soprattutto riscuoteva la pensione di invalidità civile essendo stato dichiarato cieco assoluto. La guardia di finanza di Torino ha così iniziato a pedinare l'ottantenne originario della provincia di Napoli ma da anni residente a Cirie filmandolo in alcuni momenti della sua vita nei quali come si può vedere, adesso lo state proprio vedendo mentre è a bordo della sua apecar il pensionato non sembra avere nessun problema alla vista. Le fiamme gialle gli contestano una truffa aggravata ai danni dello Stato da oltre 100.000 euro. L'uomo è stato denunciato alla procura di Ivrea, deve restituire la somma percepita indebitamente e rischia fino a 5 anni di carcere. Tra poco se continuiamo con le immagini, no, perché lo si poteva vedere proprio mentre andava a leggere i necrologi proprio per far capire così che la prova provata del fatto che quest'uomo al di là del fatto che ce ne sia ancora bisogno visto è considerato che guidava e guida tranquillamente un apecar non è assolutamente cieco. ecco forse stiamo andando un po' troppo avanti con le immagini, comunque se vedete subito dopo eccolo qua si sta proprio avvicinando ai manifesti mortuari e che legge molto tranquillamente. Bene, andiamo avanti, ennesimo episodio di violenza domestica è accaduto a Tortona in provincia di Alessandria dove un rumeno ha picchiato la moglie minacciando poi di dare fuoco all'appartamento. Per fortuna è intervenuto il figlio che ha chiamato i carabinieri. Ancora una storia di violenza domestica, questa volta l'ennesimo episodio si è verificato in un appartamento di Via Don Sturzo a Tortona nel quartiere di San Bernardino dove una donna è finita in ospedale con un trauma cranico facciale per i pugni inferti dal marito non nuovo a episodi del genere. Ed è stato grazie al figlio della coppia che è stato evitato il peggio. Protagonista una famiglia rumena, lui è il 57enne Gheorghe Popovici, lei Lenuta Popovici di 53 anni. L'uomo l'altra sera in preda ai fumi dell'alcol l'ha picchiata violentemente minacciando poi di dar fuoco all'appartamento. Si è recato in cucina e ha aperto le manopole del gas minacciando di far saltare tutto per aria. A quel punto è intervenuto il figlio che ha chiamato i carabinieri e sul posto sono arrivati quelli di Tortone e di Volpedo. Solo all'arrivo dei militari il romeno si è calmato lasciandosi condurre in carcere ad Alessandria. La moglie invece è stata portata con l'ambulanza del 118 in ospedale dove i medici, sebbene l'abbiano dichiarata non in pericolo di vita, si sono riservati la prognosi. Gheorghe Popovici lavora saltuariamente come giardiniere, adesso dovrà rispondere di lesioni personali gravi. Anche un paio di mesi fa si era reso responsabile di un'altra violenta lite sempre nei confronti della moglie, ma in quell'occasione la donna non aveva dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. E passiamo alla politica, lo aveva annunciato subito dopo le elezioni che lo avevano visto sconfitto per soli 5 voti e così ha fatto. Enrico Bertero, ex sindaco della città di Aquiterme, ha fatto ricorso al Tar e questa mattina il suo legale, Francesco Dal Piazze di Torino, ha depositato il documento con il quale viene impugnata la proclamazione del pentastellato Lorenzo Lucchini. Secondo il legale ci sarebbero almeno una quarantina di schede annullate a Bertero che sono da rivedere. Il Tribunale amministrativo torinese dovrebbe convocare l'udienza fra un mese e quindi decidere se avvallare o meno il riconteggio delle schede. Dal canto suo il primo cittadino Lucchini non ha ancora preso decisioni in merito in attesa del pronunciamento del Tar. Con un avanzo di esercizio di 11 milioni di euro, dei quali 2,5 disponibili, il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il rendiconto generale per l'esercizio finanziario del 2016. Abbiamo portato il costo del Consiglio dai 68 milioni di euro del 2012 agli attuali 48 milioni. Il costo di funzionamento dei gruppi consigliari poi è passato da oltre 2 milioni a circa 175 mila. Questo il commento del consigliere Domenico Ravetti che prosegue. Oggi possiamo dire con soddisfazione che è stato fatto un lavoro che ci consente di essere la regione con i costi della politica più bassi d'Italia. Siamo di gran lunga meno pagati rispetto a realtà come la Valle d'Aosta, il Molise o la Basilicata che hanno un trattamento economico dei consiglieri molto superiore al nostro. L'Itea Novi Ligure sull'uso dello stadio dedicato a Girardengo. Sono 4 le società sportive a contenderselo ma per i prossimi campionati la struttura potrà ospitarne solo 2. E così è bagara. Enrico Maria. A Novi Ligure si litiga per l'uso dello stadio Girardengo. Le società calcistiche che rivendicano il diritto a utilizzarlo sono 4 ma più di 2 non potranno averlo. Novese Calcio Femminile, G3 Real Novi, Tiger Novi e ASDSG Novese. La Novese maschile nata dopo il fallimento. Sono queste le 4 pretendenti al prestigioso impianto. Tutte però non possono averlo perché più di una partita per domenica il Girardengo non può ospitare. E nella prossima stagione calcistica 9 le squadre che giocheranno partite del campionato di calcio saranno a punto 4. Chi puntava nella disponibilità del nuovo campo in erba artificiale dietro lo stadio in zona San Marziano dovrà aspettare perché il bando per assegnare lavori è appena stato pubblicato. Per le manifestazioni di interesse c'è tempo fino al 2 agosto. Poi bisognerà appaltare i lavori stessi e realizzarli. Nella recente riunione organizzativa tra i rappresentanti delle 4 società calcistiche di Novi, gli esponenti dell'amministrazione comunale e della consulta sportiva è stata avanzata un'ipotesi che però non piace a tutti. Anzi, non mancano le proteste e le recriminazioni. Il disegno più accreditato è quello che vedrà il Girardengo, casa della nuova Novese maschile che ha un settore giovanile di circa 250 iscritti e la prima squadra che salva un ripescaggio ripartirà dalla terza categoria. Per allenamenti e partite alla domenica la Novese dovrà alternarsi con la CF Novese Calcio Femminile che milita nel campionato nazionale di Serie B, a meno che quest'ultima non venga chiamata a partecipare alla massima serie. Era conosciuto come il Gigante Buono, volontario per 20 anni di Castellazzo Soccorso, Roberto Roveran è morto l'anno scorso per infarto a 45 anni. La comunità di Oviglio in provincia di Alessandria lo ha voluto ricordare l'altro giorno a un anno dalla sua scomparsa con l'inaugurazione di un'ambulanza che servirà per aiutare e salvare vite umane, esattamente come faceva lui, con il suo grande cuore. È stata inaugurata ad Oviglio, nel piazzale della Chiesa, una nuova ambulanza di Castellazzo Soccorso dedicata al volontario Roberto Roveran. A precedere l'inaugurazione c'è stata una messa e poi un ricordo con esibizione musicale della figura del volontario Roberto Roveran. La cerimonia, per ricordarlo, è avvenuta alla presenza di autorità civili, militari e religiose. Le nipoti hanno fatto da madrine all'inaugurazione del nuovo mezzo per le emergenze che Don Gaetano ha benedetto davanti ad un numeroso gruppo di amici. Castellazzo Soccorso e il suo direttore Enrico Barberis ringraziano tutti gli intervenuti, le associazioni aderenti ad Arese a Piemonte, la sigla che raccoglie molte delle associazioni di emergenza sanitaria con ambulanze e poi ringraziamenti anche per i gruppi di protezione civile di Castellazzo Bormi da Oviglio, la Croce Rossa italiana di Alessandria e infine tutti gli amici di Roberto Roveran che sono intervenuti. L'ambulanza a lui dedicata è stata realizzata grazie al contributo dei fratelli Roveran, la fondazione CRT e Castellazzo Soccorso con i suoi volontari. Ho conosciuto Roberto Roveran. La giunta regionale non ha intenzione di operare in alcun modo attraverso vie legali o istituzionali in merito alle conseguenze degli avvenimenti di piazza San Carlo a Torino per il settore turistico. In primo luogo perché dal punto di vista dei risultati al momento non c'è nessuna evidenza di un caolo e anzi il mese di giugno ha registrato un aumento rispetto al 2016 sia nell'occupazione delle camere alberghiere sia nei ricavi per gli albergatori. Così diversa è la percezione da parte degli stessi imprenditori per i quali gli incidenti dello scorso giugno hanno provocato un calo della fiducia come evidenziato dalla ricerca presentata recentemente da Ascom. Così l'assessora alla cultura e al turismo della regione Piemonte Antonella Parigi ha risposto in consiglio regionale a un'interpellanza del consigliere della Lega Nord Alessandro Benvenuto sulle azioni che la giunta intendesse portare avanti per i possibili danni di immagini ed economici successivi agli incidenti dello scorso 3 giugno. Una volta c'erano un telefono, carta e penna, adesso esiste solo il web sia perché si usi il cellulare oppure un tablet o ancora un computer. Ed è proprio sul web che ogni giorno apriamo centinaia di finestre che si affacciano nel mondo intero. Succede per ogni gesto, da quello più importante a quello più semplice, come ad esempio per prenotare semplicemente un ristorante per andare a cena. De De Vinci. L'importanza delle informazioni che ci arrivano giornalmente da internet e di quanto ci condizionino nelle nostre scelte quotidiane è dimostrato anche dei dati raccolti e pubblicati in occasione dello Chef Awards 2017, ovvero l'Oscar della ristorazione italiana. Sono stati coinvolti nell'indagine ben 13.700 ristoranti, è stata condotta dalla Doxa e commissionata da Groupon. Chef Awards è il primo evento food che premia i ristoranti scelti dal web. Con questa indagine si svelano passioni, abitudini e curiosità sul rapporto tra italiani e ristorazione e passaparola digitale, perché i piemontesi escono a mangiare media oltre 5 volte al mese, allineandosi al dato nazionale con una spesa media di 21 euro. Il 75% delle volte scelgono la pizza, spesa circa 16 euro, poi il 60% anche la trattoria, 20 euro circa, e la cucina classica mediterranea per un conto di 30 euro. Seguono a distanza il ristorante etnico con una spesa media di 23 euro e infine il 29% dei piemontesi sceglie ristoranti all you can eat. Il motivo che li spinge di più ad andare fuori a cena è la voglia di stare in compagnia. Il vero cambiamento rispetto al passato sta nel modo in cui si scopre un nuovo ristorante. Nella maggior parte dei casi sono le recensioni online e il passaparola, il 62%, anche perché è il 70% di chi va a mangiare fuori che è propenso a consigliare e recensire un locale. Ed il 68% di chi legge le recensioni si fida. Ancora il 95% pensa che abbiano un peso importante nella scelta. I piemontesi escono nel 77% dei casi il venerdì e il sabato sera e la scelta del ristorante avviene in base a questi elementi fondamentali, cibo buono, prezzo, menu e pulizia del locale. Ancora un'attenzione particolare viene dedicata da chi va fuori a cena al sito web del ristorante. Si guardano le foto e si cerca di capire se è aggiornato. Infatti il 95% di coloro che escono ritiene che sia importante controllare sempre il sito, non solo nelle occasioni importanti. Il managing director di Groupon Sud Europa, tra le altre cose, comunica che il mondo della ristorazione scatena una lunga serie di relazioni e conversazioni tra utenti ed esercenti che a sua volta dà vita a strumenti sempre migliori nei quali si condividono, si comprano e si vivono vere e proprie esperienze. E siamo così in zona sport, conferenza stampa all'Hotel Diamante di Spinetta Marengo in provincia di Alessandria dove la società dell'Alessandria Calcio sta illustrando la nuova campagna abbonamenti per il prossimo campionato di Serie C. Intanto si attende la squadra nella giornata di domani, farà ritorno da Bardonecchia dove è stata in ritiro per una pausa in città prima della partenza per Cosenza dove i grigi disputeranno la gara del primo turno di Team Cup che sarà trasmessa anche in diretta TV su Rai Sport. Tra poco invece parleremo di una bella iniziativa destinata ai disabili. La pagina sportiva di oggi è stata curata da Fabrizio Mattana, subito dopo le previsioni del tempo, la rubrica delle notizie utili. Grazie come sempre per averci seguiti, arrivederci. Grazie a tutti.